Sì, Napoli-Juve per me è la prima volta e diciamo che è una di quelle prime volte di quelle partite che si aspettano e si sognano fin quando si è piccoli perché giocarla con la maglietta del Napoli contro la Juve è un derby, è un derby che aspettiamo noi, aspetta tutta la città da forse l'inizio del campionato, soprattutto in casa e diciamo che giocarla è un onore sia per il fatto che la gioco con la maglietta del Napoli sia perché vado a incontrare una squadra che si è fermata e si continua a fermare tutt'oggi nel calcio femminile. Devo dire che non vedo l'ora di scendere in campo, di difendere la città come urlano spesso i tifosi napoletani e niente, è un sogno anche perché Napoli-Juve è tutta una tua storia. Da quando sono arrivata qui a Napoli, il mister Tudis come ha detto il 5 dicembre è una data molto speciale perché si gioca Napoli contro la Juve quindi è una partita molto speciale che tutti noi siamo molto contenti e molto emozionati di giocare perché questa partita è speciale nel cuore dei napoletani, perché Napoli-Juve è tutta un'altra storia. Sì, questo sarà il primo Napoli-Juve della storia e si spera che ce ne siano molti altri. Per me da napoletana è un onore poter affrontare questa partita con questi colori e sappiamo che la Juve ha delle individualità molto importanti che è una grande squadra, andrà ad affrontare il Lione in Champions a martedì prossimo e noi faremo la nostra partita, difenderemo questi colori e sarà davvero una partita dalle mille emozioni e faremo il massimo per raggiungere un risultato. È tutta un'altra storia.